Bene, concludiamo, oggi facciamo l'ultima parte della nostra discussione sulle formule goniometriche, in particolare ci occupiamo di quello che si chiama duplicazione e bisezione, cioè quando abbiamo un angolo doppio di uno dato o metà di uno dato. Per questo partiamo dalle formule di addizione e di addizione in sostanza, cioè la somma di due angoli. Le riscrivo e ho visto che il seno di alfa più beta, la somma di due angoli qualsiasi, possiamo calcolarlo come il seno di alfa per il coseno di beta più il seno di beta per il coseno di alfa, mentre il coseno della somma è il prodotto dei coseni, coseno alfa per coseno di beta meno il prodotto dei seni, coseno alfa per sen beta. E poi abbiamo la tangente di alfa più beta che è uguale a una frazione dove il numeratore è la somma delle tangenti, la tangente di beta fratto 1 meno il prodotto delle tangenti. Ecco qui, queste erano quelle di addizione, cioè la formule per esprimere le funzioni goniometriche di un angolo che è la somma di due angoli dati. Si può verificare un caso particolare in cui i due angoli alfa e beta sono lo stesso angolo. Quindi se alfa diventa uguale a beta, allora la somma alfa più beta posso esprimere come ad esempio due volte alfa e quindi ho le formule di duplicazione che non sono altro che quelle di prima scritte in questo caso speciale. Quindi per esempio il seno di due volte alfa, possiamo pensarlo come il seno di alfa più alfa, per cui ricopio quello che avevo scritto prima sostituendo a beta il valore di nuovo di alfa. Quindi ho sen alfa per cosen alfa invece che beta più sen alfa invece che beta per il coseno di alfa di nuovo. I due termini sono identici se lo osservate, quindi ho due volte il prodotto di seno di sen alfa per coseno alfa. Quindi abbiamo la prima relazione di duplicazione, il seno del doppio di un angolo vale il doppio del prodotto del seno per il coseno dell'angolo stesso. Nel caso del coseno è ancora altrettanto semplice, se il coseno di alfa più alfa, anzi scusate, di due volte alfa, cioè il coseno di alfa più alfa è uguale al prodotto dei due coseni, che quindi in questo caso saranno lo stesso, coseno alfa per coseno alfa, meno il prodotto dei seni, sen alfa per sen alfa. Quindi ho il coseno al quadrato di alfa meno il seno al quadrato di alfa. Qui usando le relazioni fondamentali dell'agonometria, la prima in particolare, posso avere una relazione o solo col coseno o solo col seno. Per esempio posso dire, teniamoci il coseno, quindi il coseno al quadrato di alfa, meno, al posto del sen quadro, metto 1 meno cosen quadro. Trovo perché se il coseno alfa più coseno alfa fa 1. Qui tolgo le parentesi e trovo coseno alfa meno 1 meno fa più coseno alfa, quindi abbiamo due volte il coseno al quadrato di alfa meno 1. Oppure potrei dire, beh, sostituisco il coseno al coseno al quadrato di alfa, quindi mi ritrovo con 1 meno se il quadro alfa, meno ancora se il quadro alfa, cioè da qui, cambio il coseno in 1 meno se il quadro alfa e quindi l'espressione diventa 1 meno 2 volte il seno al quadrato di alfa. Quindi in realtà la riassumo dicendo che il seno di due volte alfa lo esprimiamo come due volte sen alfa per cosen alfa. Il coseno di due volte alfa ho in realtà tre possibilità, o coseno alfa meno se il quadro alfa, che è quello che abbiamo visto prima, oppure solo con i coseni, due volte coseno alfa meno 1, oppure solo col seno, quindi 1 meno 2 volte il seno al quadrato di alfa. Queste sono le prime due relazioni di duplicazione che abbiamo visto e poi rimane quella della tangente che facciamo tra un attimo. Per la tangente abbiamo che la tangente di due volte alfa, quindi la tangente di alfa più alfa, varrà una frazione dove al numeratore ho la somma delle due tangenti, quindi tangente di alfa più tangente di alfa, e al numeratore 1 meno il prodotto delle due tangenti che sono allo stesso angolo, quindi tangente di alfa per tangente di alfa. Quindi ovviamente il sommatore che possiamo sommare, abbiamo due volte la tangente di alfa, quindi assumendo la tangente del doppio dell'angolo vale due volte la tangente di alfa fratto 1 meno il quadrato della tangente di alfa. E questo conclude le formule per la duplicazione. possiamo verificare questo in un caso semplice, che conosciamo bene, un esempio, immaginiamo, che ne so, di prendere per alfa il pi greco sesti, ecco, 30 gradi, e quindi 2 alfa vale pi greco terzi. Quindi se calcolassimo la, per esempio, che ne so, il seno di pi greco terzi, intendendolo come il seno di due volte pi greco sesti, allora dovremmo usare, potremmo usare la forma di duplicazione e dire, beh, questo angolo vale due volte il seno di alfa, che in questo caso è pi greco sesti, per il coseno di alfa, che è pi greco sesti. Quindi abbiamo due per il seno di pi greco sesti, che vale un mezzo, e il coseno di pi greco sesti, che vale radici di tre mezzi. Questi due si semplificano e otteniamo radici di tre mezzi, come già sapevamo. Idem per il coseno, eccetera. Proviamo, questo per esempio, proviamo all'applicarlo, qui vi lascio per esercizio di farlo per la tangente, prendiamo il caso in cui il nostro angolo alfa è pi greco terzi, anche questo l'abbiamo già fatto, quindi due alfa vale due terzi di pi greco, questo l'abbiamo visto con gli angoli associati, possiamo anche intenderlo utilizzando le forme di duplicazione, quindi se volessimo calcolare il coseno di due terzi pi greco, intendendolo come il coseno del doppio di pi greco terzi, potremmo esprimerlo come appunto il coseno al quadrato di pi greco terzi, cioè di alfa, meno il seno al quadrato di pi greco terzi, c'è ancora alfa, per cui vediamo che il coseno di pi greco terzi vale un mezzo, quindi ho un mezzo alla seconda, meno il seno di pi greco terzi, il radice di tre mezzi, tutto al quadrato, quindi abbiamo un mezzo al quadrato che fa un quarto, meno il radice di tre mezzi al quadrato che fa tre quarti, quindi abbiamo un quarto meno tre quarti che fa meno due quarti, peggio amici meno mezzo, che è lo stesso risultato che otterremmo se utilizzassimo gli angoli associati, intendendo due terzi pi greco come pi greco meno pi greco terzi. Vediamo se trovo ancora un esempio, vediamo per esempio questo esercizio, esercizio 540, a pagina 600, dice calcola il seno dell'angolo 2 alfa, una volta che sappiamo che il coseno di alfa misura tre quarti e alfa nel primo quadrante, quindi in questo caso abbiamo che utilizziamo la forma di duplicazione per il seno, quindi il seno di due volte alfa vale due volte seno alfa per il coseno alfa, questo lo conosciamo già, ci manca il seno di alfa, essendo nel primo quadrante, allora il seno di alfa e il coseno sono entrambi positivi, quindi posso usare la prima formula della prima relazione fondamentale, quindi il seno di alfa lo esprimo come più radice quadrante di uno meno coseno quadrante alfa, quindi nel nostro caso il seno di alfa lo prendo come più la radice di uno meno coseno tre quarti alla seconda, quindi ottengo radice di uno meno 9 sedicesimi, 16 meno 9 fa 7, quindi radice di 7 sedicesimi, cioè radice di 7 quarti, per cui abbiamo che il seno che volesse il calcolo del seno di 2 volte alfa vale 2 per radice di 7 quarti per il valore del coseno, che è 3 quarti, quindi abbiamo queste due si semplifica, quindi 3 vuole radice di 7 diviso 8, 3 ottadi radici di 7, potremmo anche completare l'esercizio chiedendoci per esempio quanto vale il coseno di 2 alfa, qui potremmo usare, visto che il testo ci dà direttamente il coseno, possiamo usare la formula che usa solo i coseni, quindi 2 volte il coseno al quadrato di alfa meno 1, quindi abbiamo 2 per 3 quarti alla seconda meno 1, e quindi 2 per 9 sedicesimi meno 1, questo diventa 8, quindi viene 9 ottavi meno 1 che fa 1 ottavo. E qui per quanto riguarda la tangente, visto che ci siamo facciamo anche quella, posso calcolare la tangente di alfa prima e poi usare la formula che abbiamo visto, oppure semplicemente fare il seno di 2 alfa fratto il coseno di 2 alfa, che fosse la cosa più semplice, quindi abbiamo il seno che era 3 radice di 7 ottavi fratto 1 ottavo e viene 3 radice di 7. Fatemi ricontrollare, sì, 3 radice di 7, ok. Allora, poi, vi propongo anche questo esercizio. Un altro tipo di esercizio che potremmo affrontare è quello di semplificare le espressioni volometriche, Per esempio, l'esercizio con questo, ecco, il 531 a pagina 599 dice, semplifica questa espressione, coseno di 2 alfa più il seno di 2 alfa più 2 volte se inquadro alfa. Qui abbiamo, appunto, un'espressione coniometrica che contiene il coseno e il seno di 2 alfa. Vediamo se, utilizzando le forme coniometriche che abbiamo appena visto, riusciamo a semplificarla. Allora, per sen 2 alfa è facile perché c'è una sola opzione. Quindi qui, questa è stata uguale a 2 volte sen alfa cosen alfa. Per quanto riguarda il coseno, abbiamo visto che abbiamo tre possibilità, in realtà. E qui, che cosa ci conviene? Beh, possiamo usare la prima, per esempio, perché abbiamo un 2 quadro alfa che magari dopo si semplifica col meno sen quadro alfa che viene da qua. Quindi io tenterei questa, coseno quadro alfa meno sen quadro alfa. Quindi ci troviamo con, al posto di coseno 2 alfa abbiamo coseno quadro di alfa meno sen quadro di alfa più 2 volte sen alfa coseno alfa che viene da sen 2 alfa e più quello che rimane era 2 sen alla seconda di alfa. Ora qui ho due termini simili, il secondo e l'ultimo, che mi danno più sen quadro alfa, quindi mi rimane coseno alla seconda di alfa più 2 volte sen alfa coseno alfa più sen quadro alfa. E qui è abbastanza facile riconoscere un prodotto notevole, perché ho il quadrato del coseno, il quadrato del seno e il loro doppio prodotto. Quindi questo non è altro che il coseno di alfa più il seno di alfa, tutto alla seconda. Ok. Attenzione, questo non fa 1, non è l'asione fondamentale. Per usare l'asione fondamentale avrei dovuto lavorare prima, quindi prendere coseno quadro più sen quadro che fa 1 e quindi sarebbe arrivato un altro risultato possibile, è questo, 1 più 2 sen alfa coseno alfa. Entrambe le espressioni vanno bene. Vediamo un altro, gli esercizi di questo tipo. Ecco, magari uno con la tangente. Vediamo per esempio l'esercizio il 532, stessa pagina. 599, dove dice, semplifica la tangente di 2 alfa per parentesi 1 più tangente di alfa, chiuso la parentesi per 1 fratto la tangente di alfa. Ok, allora, qui abbiamo poche possibilità di scelta. La tangente di 2 alfa, abbiamo visto che è 2 volte tangente di alfa fratto 1 meno la tangente al quadrato di alfa. e quindi, sostituendo, avremo che la nostra espressione vale 2 per la tangente di alfa fratto 1 meno la tangente al quadrato di alfa per 1 più la tangente di alfa per ancora 1 fratto tangente alfa. Qui, al denominatore, ho un prodotto notevole. Questo è una differenza di quadrati. Posso scomporlo come 1 più tangente di alfa per 1 meno la tangente di alfa. E poi potrò semplificare con i due parentesi 1 più tangente alfa e 1 più tangente alfa. Saranno semplificabili. Quindi, riscrivo l'espressione in questo modo. Quindi, abbiamo qui il numeratore 2 per la tangente di alfa e il denominatore 1 più tangente di alfa per 1 meno la tangente di alfa per parentesi 1 più la tangente di alfa per ancora 1 fratto la tangente di alfa. Da qui, la parentesi 1 più tangente alfa può essere semplificata e anche la tangente, questo numeratore può andare via con questo. Anzi, facciamo così il cambio colore. che questo lo semplificiamo col blu, questo va via con questo. E quindi rimane al numeratore 2, perché 2 per 1 per 1 rimane 2. Al denominatore viene 1 meno la tangente di alfa. Allora, se non ci sono domande, vediamo anche l'ultimo set di formule, cioè le forme della bisezione, cioè quando posso esprimere il seno, coseno e tangente di un angolo che è la metà di uno dato, cioè come calcolo il seno e il coseno della tangente di, diciamo, alfa mezzi, se conosco alfa, quindi la situazione inversa della precedente. Quindi qui, questo si chiama bisezione proprio perché biseca l'angolo, ce lo divide nella sua metà. Beh, per far questo, in realtà, è sufficiente invertire le relazioni che abbiamo visto prima. In particolare, immaginate di prendere la funzione coseno. Immaginiamo di avere un angolo beta. Ok. E applicare a beta le relazioni di duplicazione. Quindi prendiamo, per esempio, che ne so, il coseno di 2 beta e lo esprimiamo, utilizzando una delle opzioni viste prima, come 2 volte il coseno al quadrato di beta meno 1. Questa è la formula di duplicazione che abbiamo appena visto. Adesso, se applichiamo questa relazione e nel caso in cui il nostro beta sia alfa mezzi immaginate che il nostro beta sia la metà di alfa allora risolviamo il nostro problema perché riscrivo questa utilizzando al posto di beta alfa mezzi e ottengo che il coseno 2 volte alfa mezzi scusate posso esprimere come 2 volte il coseno al quadrato di alfa mezzi meno 1 qui i due due si semplificano e qui a sinistra mi ritrovo con il coseno di alfa e a destra ho 2 volte il coseno al quadrato di alfa mezzi meno 1 quindi qui risolvo per il coseno di alfa mezzi quindi ho il coseno di alfa porto a sinistra l'1 più 1 che vale 2 volte il coseno quadrato di alfa mezzi e quindi nel caso specifico divido per 2 quindi ho coseno alfa più 1 mezzi che vale coseno quadrato di alfa mezzi e poi prendo la radice quadrata quindi lasciatemi anche invertire diciamo che alla fine il coseno di alfa mezzi vale più o meno perché faccio la radice ho i due segni possibili la radice di 1 più il coseno di alfa diviso 2 cosa determina la scelta del più o del meno? beh dipende dal quadrante dove si trova alfa mezzi se alfa mezzi in funzione di alfa è nel primo quadrante o nel quarto avrò il più se l'alfa mezzi si trova nel secondo quadrante o nel terzo ottenerò il meno ok come mi comporto per il seno? beh per il seno utilizzo la stessa relazione cioè il coseno di alfa mezzi cioè il coseno di alfa mezzi torniamo al nostro coseno beta diciamo che il coseno di 2 beta stavolta stavolta lo esprimiamo come 1 meno il cos'era scusate non è il contrario un attimo mi sono perso 1 meno 2 appunto se in quadro di beta anche in questo caso quindi uso le formule di duplicazione però stavolta me la gioco il coseno di 2 beta utilizzando il seno quindi anche qui in questo caso supponiamo che il nostro beta sia esattamente alfa mezzi cioè l'angolo che ci interessa quindi abbiamo che il coseno anche in questo caso di 2 beta mezzi cioè il coseno di beta vale 1 meno 2 volte il seno al quadrato di beta mezzi e faccio lo stesso il gioco di prima cioè risolvo per rispetto a sen beta mezzi i due due vanno via e ho a sinistra il coseno di beta e a destra 1 meno 2 volte il seno a seconda di beta mezzi quindi porto il 2 seno a metà mezzi a sinistra il coseno a destra scusate ho scambiato alfa con beta ok 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 quindi il seno di alfa mezzi posso esprimere come più o meno la radice quadrata di 1 meno il coseno di alfa diviso 2 anche in questo caso avremo che il valore più lo prendo se alfa mezzi è nel primo o nel secondo quadrante mentre il valore sarà meno se alfa medie si trova nel terzo o nel quarto quadrante fatemi incominciare anche questa e infine andiamo a andiamo a vedere cosa succede per la tangente qui come possiamo regolarci beh è abbastanza semplice la cosa possiamo fare scusate possiamo applicare la seconda radiazione fondamentale la tangente di alfa mezzi la penso come rapporto tra il seno di alfa mezzi fratto il coseno di alfa mezzi quindi ho il rapporto tra più o meno la radice di 1 meno coseno alfa mezzi e più o meno la radice di 1 più coseno alfa mezzi d'accordo quindi qui abbiamo poi le combinazioni più e meno anche lì dipenderanno dal quale quadrante mi ritrovo quindi ho la radice di 1 meno il mezzi si semplificano 1 meno coseno alfa fratto 1 più coseno alfa qui attenzione abbiamo la possibilità di semplificare la radice perché beh immaginiamo riprendere qui ricopio qui possiamo utilizzare i prodotti notevoli se immagini moltiplico numeratore denominatore sotto la frazione per la stessa espressione la frazione non cambia immaginate di moltiplicare tutto per 1 più coseno alfa per esempio 1 più coseno alfa sopra e 1 più coseno alfa sotto per un attimo per un attimo sarà chiaro il perché questa scelta in un numeratore ho 1 meno coseno alfa per 1 più coseno alfa è un po' lotto notevole mi rimane 1 meno il quadrato di coseno alfa e al denominatore e al denominatore ho 1 più coseno alfa tutta la seconda ma 1 meno coseno alfa vale se inquadro alfa questo è seno a seconda di alfa e sotto 1 più coseno alfa tutta la seconda ora adesso qui ho sotto un rapporto di quadrati quindi questo posso vederlo come più o meno la radice di sen alfa fratto 1 più coseno alfa tutta la seconda il questo quadrato mi semplifica la radice e mi sparisce anche il più o meno diviene sen alfa fratto 1 più coseno alfa quindi morale della favola posso esprimere la tangente di alfa mezzi come il rapporto tra il seno dell'angolo alfa intero fratto 1 più il coseno di alfa ok se invece moltiplicarsi torniamo un attimo indietro se invece dove eravamo prima ecco qui moltiplicarsi numeratore denominatore per 1 meno coseno alfa avrei 1 meno coseno alfa il numeratore e avrei 1 meno coseno alfa il denominatore quindi ripetendo lo stesso iter troverei che la tangente di alfa mezzi è esprimibile anche come 1 meno coseno alfa fratto sen alfa per le stesse ragioni di prima semplicemente scegliendo di moltiplicare per 1 meno coseno alfa invece che 1 più coseno alfa ok applichiamo questo nel caso della tangente è un caso semplice immaginiamo che che ne so il nostro alfa sia pi greco mezzi e quindi alfa mezzi è pi greco quarti quindi calcoliamo la tangente di pi greco quarti come la tangente della metà di alfa di pi greco mezzi per cui possiamo prendere per esempio la la prima delle due soluzioni quindi abbiamo sen alfa quindi sen pi greco mezzi fratto 1 più il coseno di pi greco mezzi ne abbiamo radice di due mezzi fratto 1 più radice di due mezzi eh no scusate pi greco mezzi quindi non pi greco quarti sì era giusto pi greco mezzi scusate pi greco mezzi pi greco mezzi quindi qui viene dai sen di sen di pi greco mezzi che è 1 cos'è in picco mezzi e 0 chiedo scusa per la confusione gli viene 1 fratto 1 e quindi 1 che è corretto ok vediamo se c'è qualche altro esercizio che possiamo fare con le forme di sezione per esempio proviamo l'esercizio 554 a pagina 602 che dice calcolo seno e coseno e tangente quindi seno coseno e tangente di alfa mezzi sapendo che il coseno di alfa vale 3 quinti e che alfa nel primo quadrante quindi prenderemo sempre i segni positivi ok quindi ad esempio potremmo calcolare cominciamo col seno il seno di alfa mezzi vale quindi prendiamo il segno più perché se alfa nel primo quadrante anche alfa mezzi lo è la radice quadrante è di 1 1 meno il coseno di alfa fratto 2 quindi avremo la radice di 1 meno 3 quarti fratto 2 per cui viene numeratore 4 meno 3 ancora 2 quindi viene eh 5 qua radice di 4 meno 3 che fa 2 quarti ancora diviso 2 quindi viene un mezzo Armando scusa se ti disturbiamo prego scusa se ti disturbiamo ma Grazie a tutti.